Siamo con Marcello Forti, amministratore delegato di Fede Group, che è appunto il nuovo gestore del Pedrocchi. Parliamo delle novità di questo caffè, tra queste anche una parte del caffè un po' più accessibile alle persone. Sì, il caffè moderno, così l'abbiamo battezzato, perché risponde alle esigenze del 2014, sempre nel solco della tradizione lanciata nel 1831 da Antonio Pedrocchi. Oggi è sempre più aperto ai giovani, sia tramite la Sala Verde, abbiamo visto quanti giovani tutti i giorni, tra un'ora e l'altra, nell'università, si siedono, bevono un caffè, utilizzano l'iMac a disposizione, una connessione Wi-Fi per tutti o un bicchier d'acqua. La parte legata invece al prodotto di pasticceria, sempre molto adatta per tutti, il caffè a prezzi competitivi, le paste, il panino, lo snack, lo street food, un prodotto veramente per tutti i giorni. Questo cerchiamo di dare per la fascia giovane e per le future leve di Padova. E domani alle 18 la grande inaugurazione? Domani alle 18 faremo veramente un bel terremoto, ci sarà un flash mob divertentissimo, chi potrà venire lo vedrà, altrimenti lo troverete sui social network, sul nostro sito caffepedrocchi.it o sulla nostra pagina Facebook, che sta arrivando ai 10.000 fan, quindi sta veramente piacendo. Vi aspettiamo, aspettiamo tutti.